E state attenti quando scrivete agli altri ragazzi a prendere per il culo a dire che qualcuno dice le bufale perché poi abbiamo, c'è il nome e il cognome, non è carino, quello è mancanza di rispetto professionale se volete, io sono scherzo e rido, però dopo dovete portare il rispetto se no dopo prendo e comincio ad elencare le stronzate che avete detto e quindi Ma chi è che ha detto che sei un cazzaro ti hanno dato? Allora raga, prima di calarci il calciomercato vogliamo dare un'occhiata al video che diciamo sbugiarda Allegri visto che l'hanno messo da tutte le parti, compreso il nostro bot e così chiudiamo questa polemica Ecco qua, il signore senza capelli che dovrebbe essere cecchi sta camminando dopo il gol verso la panchina Ecco la pelata Ecco qua, sul piede di Allegri Rivediamola Chiede scusa Subito E Allegri impazzisce Una scusa un po' volante, sì Però Ma che doveva fare, Erigiano? Che ti hai detto, tu manda una puttana E Allegri lo manda a quel paese Allora qua due sono le cose, raga Io il 90% la vedo che Allegri è impazzito E non sarebbe la prima volta Mi lascio un 10% ma neanche diciamo un 1% Di cecchi che magari Allegri l'ha percepita come una cosa che per finta è stata Cioè nel senso che lui ha fatto finta di andarci casualmente Ma magari ci è andato con l'intenzione, non lo so Proprio mi lascio un piccolo spiraglio perché si vede da lontano Però al 99% sembra che Allegri sia impazzito, non lo so Secondo me neanche da commentare ragazzi Vabbè ragazzi, Allegri è impazzito Stava sotto stress, sotto ansia Movin' app e difenderlo Per me ha fatto una cazzata, è palese Speriamo che non succedano più queste cose Perché poi i stessi allenatori che poi vanno in conferenza A dire che quel calciatore o quell'altro calciatore simulano E poi magari lui simula la stessa cosa perché non succede niente Quello ti pesta il piede, se sbaglia Tra l'altro ti chiede pure scusa Poi fai una manfrina dopo Missa, te voglio bene Grazie Luca E grazie anche a Lila per il terzo mese Allora sono d'accordo, penso che siamo tutti d'accordo Ragazzi tra l'altro vi ricordo che tu Manfra prima hai detto Senza capelli e hai fatto bene Perché da oggi L'ho sentito anch'io A tutti No perché poi a me, guardate, è una roba che odio Ma purtroppo mi capita sempre E avere ragione Solo in Inghilterra Vai a vivere in Inghilterra Ma facci tu Fra Ma che cazzo vuoi Freda Ma che cazzo vuoi Ma non lo faccio più rientrare Stavo dicendo Oggi All'altro pancio, scusati disturbo Io potrei stare dentro a vedere la partita al centrale Sto in diretta con voi Perché al centrale bisogna star zitti Quindi Cinque pari stavano Al San Altai Tanto pere Basta 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 pancio Basta Ah vabbè oggi ti tratto bene No Forse è un po' too much Dovresti fare 4-3 zizi Bravo Damiano Spam di cuori ragazzi In chat Grande paino Sembra un gol ragazzi Bellissimo Veniteci Nella vostra vita almeno una volta al centrale Eh ma la gente paga Damiano Spam di cuori che devo fare E io A me mi regalano Ringraziando Gesù Cristo Che devo fare Devo pagare Che ti meriti Mi regalano E poi Mi regalano Grazie dottor Polemica Umilissimo Umilissimo Faina Allora ragazzi Andiamo però un attimo Parliamo anche di calcio giocato Allora Le notizie di oggi Ah non la fai vedere più quella cosa Cosa? Quella che dovevi far vedere No vabbè la faccio in una puntata serie Quando non ci sei tu bro Non ti preoccupare Adesso rimaniamo sulle cazzate Vai Andiamo su Come titola oggi Il Corriere dello Spor Ragazzi Di bala Alla Roma Ecco perché L'affare può concretizzarsi La stima di Mourinho Il progetto dei Fredkin E la passione Della gioia Per le sfide L'idea di Tiago Pinto Può concretizzarsi In caso Di Europa Attenzione Attenzione Camelio Intanto Lo dico senza problemi Perché non mi piace mai fare pareggi Il Corriere dello Sport Collabora anche con noi Con la nostra radio E mi piaceva Mi sarebbe piaciuto Che come anticipato da Ma noi l'abbiamo detto anche qui Perché noi lo facciamo al contrario No ma io li vedo tanti Tanti addetti ai lavori Che mi vengono a scrivere in privato Harry le parlavo anche con Damiano stamattina No Oh vi ho visto ieri sera Oh mi son visto la puntata su Youtube Però non citano eh Ma adesso arriviamo col giornale E vi querelliamo tutti Vi querelliamo tutti Ma facciamolo No Però ti dico C'è una grande conferma Noi l'abbiamo saputo anche Che noi abbiamo rispetto Li invitiamo qua Poi a parti invertite Non nominano mai un cazzo Mai un cazzo E non sto trollando raga Però oggi non c'è proprio rispetto Ma penso come te Comunque andando sulla notizia Ti confermo Questa mattina abbiamo lavorato ancora Insieme a Damiano Che da Roma c'è La Roma stanno trattando E ormai questa La possiamo dare per ufficiale So per certo Ma questo è un complimenti a lui Che Ivan Zanzaroni Ha un rapporto Anche se avevamo discusso Tempo fa Quando era all'Inter Con Mourinho Hanno un grandissimo rapporto Si sentono Perché È così E quindi sicuramente Ivan Zanzaroni Che l'articolo lo firma Ha parlato con Mourinho Mourinho non lo manda Tra virgolette Come si dice a Roma Ha bevuto Quindi questa è un'ulteriore Conferma E la Roma si è incontrata Con i giocatori del giocatore E l'abbiamo incrociata E questa cosa L'ha fatta anche il dottor Faina E quindi sarebbe un acquisto top E mi dicono che adesso La Roma è in vantaggio Io questo mi sento di dire Damiano risulta che è un po' più in vantaggio L'Inter E vediamo Vediamo cosa succede Però la Roma c'è una grande sorpresa Avevamo detto che Qui dicevamo solo stronzate Parlando del sottoscritto Quindi ad oggi Poi la trattativa Andrea lo sai Tutto può succedere Magari entra un'altra squadra in corso Loro stanno su tre tavoli Questo ci hanno detto Io so solo Del tavolo della Roma Non so né dell'Inter Né della Terrico Madrid Addirittura dicono Manchester United Adesso del Toscai Non dico nulla Visto che c'è Sarno Io avevo letto Anche qualcosina sul Milan Sì Allora Riguardo la notizia di prima Riguardo di Balla Posso dire che comunque È vero che la Roma c'è Secondo me però Il titolo Diciamo non è Proprio così Nel senso che Di Balla Se deciderà in futuro Di andare alla Roma Lo farà Con o senza Europa League Non è l'Europa League Che diciamo Eh sì perché Sebastiano O va in Champions Oppure uguale Europa Che non è sempre Una coppa di serie Che dicevo Non cambia Non cambia una decisione Di un giocatore come Di Balla Dall'Europa League Oppure no Vorrebbe cambiare In caso di Champions Ma non è questo il caso Nonostante questo Io sono d'accordo con Damiano Però quando dice Che la squadra Attualmente E che è un po' Più avanti Nella corsa È l'Inter Perché l'Inter È l'unica Che ha fatto Un'offerta ufficiale Ha offerto Tre anni Più opzione per il quarto Grazie Gian Quindi diciamo Che secondo me L'Inter è ancora Un po' avanti Detto questo C'era stato Anche un Interessamenti Dalla Premier Dalla Spagna Escludo Perché nessuna squadra Spagnola Si è interessata Di Balla Dalla Premier Tempo fa Avevo saputo Di un piccolo Sondaggio Dell'Everton E del Manchester United Però ripeto L'unica squadra Che adesso Ha fatto un'offerta È l'Inter E subito dopo L'Inter C'è la Roma Beh però Della Roma Ne stanno parlando Tutti oggi A partire dal Corriere Però Devo dire Devo dire Enrique In realtà È vero Che sono venuti Sul tuo carro Però nessuno Ha minimamente Citato Questa cosa qua Tranne Enrique Carrera Che ha fatto Un tweet Molto polemico Però Ve lo prendiamo Ecco Ma io l'avevo detto Anche qua Lo stesso giorno Quindi Figurati È giusto Che sia così Però va bene Rispetto C'è pure qualcuno Che viene qua dentro Lo dico Perché dopo Lo dirò Quando sarà Dovere Proprio la persona Interessata Damiano Sai di chi parlo State attenti Quando scrivete Agli altri ragazzi A prendere per il culo A dire che Qualcuno dice Le bufale Perché poi abbiamo C'è il nome e il cognome Non è carino Quella è mancanza Di rispetto professionale Se volete Io sono scherzo E rido Però dopo dovete portare Rispetto Se no dopo Prendo E comincio ad elencare Le stronzate Che avete detto E quindi Ma chi è che ha detto Che sei un cazzaro Ti hanno dato No ma si diceva Non ho riferito Direttamente a me Hanno chiesto Di ribala La Roma Qualche giorno fa Ho detto Completamente Una bufa Non è vero nulla Mi dispiace Adesso Quando sarà il momento Faccia i nomi No no Non lo faccio Perché non sto qui A fare i dissing Non mi piace Ma prima glielo voglio dire Vabbè ma è anche Rispetto Scusami Henry Se mi permetto Però è anche rispetto Nel tuo lavoro Diciamo Tutelarti No? Se uno ti dà Del cazzaro Quindi No no ma io Fatti lo farò Prima lo voglio fare Perché adesso è assente Prima lo voglio fare Forse ho capito io In chat dicono Asso No no Un operatore di mercato Un operatore di mercato E quindi Che fa tutto Tutto Italia Insomma Non è Stefano Quindi Prima glielo dico a lui Anche perché poi È intervinto anche Alla mia radio Quindi insomma Sai Quando io ti faccio Intervenire Ti devi dare rispetto Sennò diventa Non è carino Longari? No 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 Non dico nulla Non dico nulla Beh ci dica chi è Cavasini No 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 Non è assente Non è carino Ho capito Ma non è che gli stai dicendo Se lui ti ha detto Una roba pubblicamente Puoi rispondere pubblicamente Cioè se l'aveste detta Non l'ha detta pubblicamente No Ah ok L'ha detta in una chat Ecco perché Capito? Mi hanno fatto lo screenshot E me l'ha mandato Quindi attenzione Non lo faccio mai Non commento Non le dice degli altri E ognuno faccio stare su Insomma Però Harry Se posso dire la mia No 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 Allora con Harry Con Harry Abbiamo parlato Di questo interessamento Il 22 di aprile Per quanto Per quanto No vabbè Ci sono i tweet Ci sono le storie Mie che ho fatto La storia dove Ho taggato Non abbiamo parlato Tu però Inter L'hai sempre detto Dammi No no ma Enrico Ha la sua testa Pensa quello che vuole Dice quello che vuole Ha 50 anni Quindi fa quello che vuole Io dico semplicemente Una cosa come ho detto Stamattina Sui miei profili Io spero che D'ora in poi Qualcuno Ci dia più credibilità No Perché evidentemente Quando parliamo di qualcosa È perché sappiamo Se poi gli altri 20 giorni dopo Lo dicono A me non me ne frega un cazzo Andrei te lo dico In tutta onestà Che ci riprendono O ci dicono L'hanno detta loro Non me ne frega nulla Di questo Ok Però io spero Che la gente Che ci guarda Ok Che mi guarda Che guarda questa trasmissione Dove abbiamo spazio Ringraziando Dio Ci dia più Più importanza Perché poi Credibilità No ma Ragazzi Pancio scusa Manfredi Ti ho mandato Holland L'altro giorno Dell'annunciato il Manchester City Me l'ha detto per primo Quando tutti mi piavano per culo Quando facevo Quando facevo così Voi lo ricordate Due mesi fa Quando facevo così Certo Certo Quindi Prendo delle toppe Perché io ho detto Vlaovic all'Arsenal Non è andato all'Arsenal Ok Quindi di conseguenza Prendo delle toppe Però io spero Che poi Quando un nome esce fuori Per primi E per primi siamo noi Io Enrico Chi si occupa di queste cose Spero che Ci venga data almeno Della credibilità Non dico rispetto Credibilità Punto Perché siamo da soli Non abbiamo una redazione Come hanno gli altri Altri hanno 20 30 40 persone Che lavorano per loro Anche il buon Sebastiano Lavora da solo Date un po' di credibilità Punto Chiuso Poi Vado sulla trattativa Vado sulla trattativa Buonasera Perché Perché fai no con la testa No perché secondo me Assolutamente la decisione di Dybala Non dipende dal fatto Che la Roma vada In Europa League Se Dybala decide Di andare alla Roma Per una scelta sua personale Di certo Non è l'Europa League Che farebbe cambiare Anche secondo me Finisco Concludo Dicendo che Secondo me Non aggiunge nulla Aggiunge una cosa Un dettaglio Come questo dell'Europa Che non mi hanno riferito Ho le stesse informazioni Di Sarno E detto questo Ragazzi Per me Per me Rimane ancora avanti l'Inter C'ho la netta sensazione Che l'Inter Debba muoversi Debba sbrigarsi Questo sì Per me rimane avanti l'Inter Punto Cioè secondo te Dammi sono delle voci Messe in giro Magari dalla gente O dalla società No 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 Dell'Interessamento Della Roma per Dybala È reale Ed esiste No hanno parlato Damiano Questo è siccome roba tua No no Dillo che sai È una domanda Fammi finire Enrico È un Interessamento È un Interessamento Della Roma Che c'è C'è stata una proposta Addirittura della Roma All'enturace del calciatore Stanno valutando Fanno cumulo Prendono le proposte Quando il calciatore Scadenza Prendono le proposte Le immagazzinano E poi sarà il calciatore A decidere dove andare O con chi andare Ad approfondire la trattativa Questo è Ma la domanda è Ma Di Bala Il fatto che venga Cioè che venga a Roma Che sia stato sondato Dalla Roma Che ci possa essere Un interesse Concreto È stato Murigno È il calciatore Cioè sapete come Potete aggiungere qualcosa di più Perché appunto Grazie Luca Grazie Evans Che ha giftato L'abbonamento a Luca No te lo dico Perché è così Non c'è un nessuno Chi fa le fotocopie a Trigoria C'è l'ok di Murigno Vuole la sigla Compreso Showmurdo Febbina Quindi comunque Murigno decide tutto Questo ma te lo dicono Se pare con qualsiasi persona A Trigoria Te lo dicono Giusto o sbagliato che sia Comunque ogni scelta È condivisa Lui assolutamente Poi Di Bala È argentino Con Zagnolo Non c'è questo straordinario rapporto Quello che si vuole far credere Perché su Zagnolo penso Dopo 26 Smentire C'ho dato di firme In arrivo Non c'è nulla E quindi Quindi per il momento Anche Zagnolo Viene di Bala Se dovesse viene di Bala Zagnolo comunque Andrà via Ancora più sicuramente Però raga Vi chiedo una cosa Meno 42 al gol Prego Marco Grazie Lotto No Grazie sempre a Evans Perché tu vedi Chi sa buono Mentre sempre è giftato Spam di Mecenate Per Evans Che ne ha già regalati due Grande Evans Meno 41 Forza Mecenati Prego Marco Ma il fatto che Nulla a togliere la Roma Eh Re Ma lo direi anche Della Lazio O Cioè Il fatto che Di Bala Venga accostato Prima all'Atletico Poi all'Inter Poi alla Roma E poi non lo so Fra due settimane Credo all'Empoli Non è sinonimo Che Non è sintomo Che il fatto che il calciatore Sta perdendo di valore Parecchio Cioè Tutto rispetto per la Roma No 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 ma oggettivamente Nel senso certo La Roma Se pensi che in classifica È sesta Chiaramente Però sai Questo clima che si è creato a Roma Su questo È il merito maggiore Che ha avuto Mourinho a Roma Grazie a Evans È sesta Insomma in campionato Totti ha dato voto 6 Se mi fossi permesso io Di dire 6 a Roma Vaverebbero Crocifisso L'ha detto Totti Non dice niente nessuno Cioè Totti ha dato 6 Lo dico pure Andrea Che fa un po' Da arbitro Cioè Francesco Totti Totti si è permesso Di attaccare Mourinho E Non sarebbe Sì l'ho visto anche io Nel treno Frecciarossa Se non sbaglio Non c'è questa cosa qua Grazie intanto a Evans Che ne regala un'altra Grazie anche a Gianluca Spam di Mecenata 5 e mezzo 5 e mezzo Ragazzi l'ha toccata peggio di me Se avessi detto io questa cosa Ma vedete come funziona Lo dice Totti Va tutto bene Comunque Totti Adesso faccio quello che ha detto Non dico più io L'ha detto Totti Ragazzi Gli ha dato 5 e mezzo Al campionato della Roma Che è giusto Perché insomma la Roma Stava ai stessi punti Adesso questo non c'entrava Nulla Andrea Io ti dico la verità Io ci ho visto Ci ho visto Un po' di Rosic In quella cosa di Totti Non lo so Sì Non lo so Però il voto è questo 5 e mezzo Secondo me è un pochino Tumaccia Beh Andrea La Roma c'ha gli stessi punti Della Fiorentina Coppiante Che ha venuto Vlauic Insomma La Roma ha speso 100 milioni Muligno e Italiano Ci sono 26 Catello di Firenze Che voto gli vuoi dare 6? In campionato Non gli vuoi dare di più Dai sta sotto la Lazio Ma non scherziamo Però però Henry Quindi Allora Ritornando a prima O uno dice No guarda L'anno prossimo Vogliamo fare una grande Roma Si parte da Di Bala Abram in attacco Che mi sembra un bel attacco E poi Tanti belli acquisti E faccio una grande Roma Si E quindi potrebbe avere E Di Bala dice Ah caspita Mi piace il progetto Magari si punta a vincere L'anno prossimo Si rispondo Manfredi Perché se no C'è come si trova uno Da giocare Alla Juve Va l'Atletico E poi va la Roma Credo di sapere La risposta Perché la stessa domanda Visto che è intelligente L'ho fatta anche io No scherzo E mi dicono Ma siamo tutti Sei sicuro che Di Bala Tutti questi corteggiatori Visto Ha fatto un po' Di anni alterni Un po' Di infortuni Lui comunque Vuole tanti soldi Sia lui Che C'è Loro vogliono No La commissione Chiara Ma è giusto Ci sta È svincolato E quindi Magari Sei una società E attenzione Agli anni di contratto Perché tutti scrivono tre Ma lui vuole firmare Per quattro anni Sai Magari la Roma È quella disposta Questo è l'ultimo contratto Della carriera di lui C'è Murigno Roma è comunque Una città stupenda Secondo me È un matrimagno Che si può fare Adesso Quanto Adesso Un secondo Un secondo Scusami Ma Vorrei sentire Dalfaina Un attimo Che dicono Se puoi chiedere ai ragazzi Che c'erano lì con te Che facevano le foto Che ne pensano Secondo loro dove andare Di Bala No Sono andati via E mi hanno chiesto Come finisce Sissi Pass Sinner Ormai Tipster H24 Qui parlano De tennis Ha vinto Il primo set Sissi Pass Sì Scusami Alfa Prego No no Dicevo Il discorso È che Di Bala Adesso Ma perché hai chiamato Sciscione Scusami Eh Voglio sentire La sua Su Di Bala La Roma Ah e beh Ci sta Non ti si sente Ago Eh secondo me c'è il microfono Che non va Tu ti senti Ago Mentre parli Eh noi non ti sentiamo Ago Ma forse è meglio così Oh dicevo Sarno Di Bala adesso guadagna 7 e 3 Secondo te Cosa ha bisogno Per accettare Di cosa ha bisogno Oltre al fatto di Camelio Che dice 4 anni Invece che 3 Sì Intendi per accettare Alla Roma Eh Eh sì Partiamo dalla Roma Secondo me A parità di offerte Tra Inter e Roma Ovviamente sarà lui A decidere Dipende dal ruolo Che avrà in società Fatto sta Che come ho detto Io vedo difficile All'Inter E per questo In questo momento La Roma sta prendendo Sta prendendo vuote Io vedo molto difficile All'Inter Un attacco composto Di Bala Lautaro Martinez Lo vedo davvero molto difficile Secondo me Se l'Inter Nel caso in cui L'Inter Diciamo Quando aprà la certezza Di vendere Lautaro Farebbe senza dubbio Una proposta Di Bala Anche superiore A quella che è disposta A fare la Roma Fatto sta Che al momento Questa sicurezza Non c'è E per questo La Roma sta Prendendo vuote Ed è seriamente Interessata Allora C'è un'ultima ora Dicono che Marco Salonso Stia firmando Col Barcellona E Perisic Abbia raggiunto Un accordo Col Chelsea In realtà Stavo guardando Studio Sport E Perisic Celsi L'ha detta Sabatini Ed era la prima volta Che la sentivo Onestamente Sandro Sì Non so Beh si spiegherebbero Manfred Le parole dell'altra sera In realtà Se dovesse essere così Anche se poi Ho trovato Quest'articolo Di calciomercato.it Che credo siano I colleghi Grande Matteo Sì 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 Dice Perisic Sgarbo Juve L'Inter adesso trema Quindi c'è anche Chi l'ha scritto L'articolo L'articolo Giorgio Musso No ok Chiediamo Eventualmente Se posso Vi mando il contatto Eh quindi Voi che Che notizie avete Io su Perisic Io su Perisic Non so nulla Ci lavoriamo Ci lavoriamo Però ci lavoro Sinceramente Io non penso Che per Perisic Ma è una mia Un giudizio personale Un'opinione personale Che possa Far bene In una squadra De Premier League Poi magari Mi sbaglio Cioè io credo Che Perisic Sia perfetto Per l'Inter Adesso io non so Se sia un problema Economico il loro Del mancato Il nuovo ancora O ci sia Qualche altro Tipo di problema Secondo me Ieri Faina abbiamo avuto Biasin E i vari Bergomi Guarro Ci hanno confermato Che Perisic Abbia delle pretese L'Inter Visto che ha preso Gosens È andata lì Come per dire Perché se non avesse Preso Gosens Perisic Va sono l'unico Esterro-sinistro Invece adesso Che ha preso Gosens Dice guarda Noi abbiamo Gosens Per il resto Quindi o accetti La nostra Oppure non è che abbiamo Questo disperato bisogno Prima che andate avanti Io vi saluto ragazzi Che raggiungo il dottor Faina Poi vi faccio Un video da là Grazie Buon pomeriggio E complimenti Camelo Complimenti per i coglioni Complimenti Grazie Ciao Andrea Grazie Allora No non so se potete Confermare qualcosa Ragazzi Sarno Su August si sente? Sì Io ti sento A posta No prima non ti sentivamo noi Agu Sì Vai Sarno Se c'è qualcosa Su Perisic E poi anche Quello che succede In giro nel mondo Perché ho visto Che comunque Hai pubblicato Delle cose Sì Allora Su Perisic Nelle ultime ore Si era parlato Anche di un interessamento Della Juve Fatto sta che Al momento Nonostante le dichiarazioni Da quello che mi risulta Comunque anche la gente Sta dando priorità All'Inter E ballano circa 500 mila euro E per quanto riguarda il resto Io posso dire Che una notizia di oggi E che Scusami Se Bab Se L'Inter stava a 4 e mezzo Lui ne voleva 6 Giusto? No Da quello che mi risulta L'Inter stava a 4 e mezzo Se lui ne voleva circa 5 Ah ok Quindi È fattibile Diciamo Secondo me In tir e molla Andre St'interessamento tirato fuori così Mi sembra quasi fatto apposta Per far smuovere l'Inter Come quando è uscita La notizia di Dybala Poi smentita Da Untun Che era fatta Con l'Inter Proprio per Spodestare Anzi no Spodestare Per creare Scompiglio Nell'ambiente Inter E nell'ambiente Nerazzurro Poco prima Della finale De Coppa Italia Poi prontamente Smentito Da Untun Quindi De conseguenza Si usano anche Questi trucchetti Mi sa molto De trucchetto Da parte De qualcuno Per smuovere le coscienze A livello dirigenziale Interista Poi tutto può essere È una mia Ripeto Non ho C'è lavoro Ma non ho Info È una mia Secessione Però Tutti quelli che scrivono Eh vabbè Per 500k Si devono ricordare Che Per Celanoglu Qualche mese fa È successa più o meno La stessa cosa È successa uguale Posso dire una cosa È vero Però a volte È proprio Quella Proprio perché sono solo 500 Che i giocatori si arrabbiano E quindi Perché non gli viene dato Quello che vogliono A volte non si tratta Solo Della cifra Ma si tratta anche Del modo in cui Gli viene proposto Gli viene detto O questo oppure nulla Magari Perisic Pretendeva quella cifra E adesso Diciamo I rapporti Stanno andando In questa direzione Quindi A volte Proprio quando La cifra è minore È lì che I rapporti Diciamo Si gelano Tra le parti Però 500 per 4 Fa 2 milioni Si 2 milioni Sono 4 milioni No 2 milioni Al calciatore È la differenza È 2 A che dai Aostato È 2 Grazie Ale Quindi diciamo Anche questo è vero Anche questo è vero Quindi per la società Sono molti più soldi E poi stiamo parlando Di una società Che voglio dire Non è che navica In queste acque Ma ripeto Manfredo Secondo me È un giochetto Da parte dei procuratori Per far Sbriga all'Inter Se usa Fallo ragazzi Grazie Gabbro Non è de certo Oggi che si fa Una cosa del genere Poi Se Perisic Andrà all'Inter Questo magari Ve lo saprò Dire Sti giorni Però mi sa molto Così senza sapere nulla Mi sa molto del giochetto C'è anche questa notizia Di Agresti Quello sì Stavo dicendo Proprio una notizia Dell'ultimo Red Di Maria Che mi è arrivata Cioè che nelle prossime ore Ci sarà proprio un contatto Con la gente di Di Maria Tra la Juventus E la gente di Di Maria Di Maria è stato Si è proposto Alla Juventus La Juventus È molto interessata E ricordiamo Che a differenza di Di Bala Comunque Di Maria Verrebbe soltanto Per un anno Alla Juve E poi magari Si parlerà Di un altro anno Di contratto Come ho detto La cifra è di 7 milioni L'anno Ma ricordiamo Che c'è il decreto Crescita Che quindi Andrebbe a favorire Questa trattativa Quindi la Juve Oggi Si è avvicinata Molto di più Di Maria Rispetto a ieri Perché è stato Fissato proprio Un contatto Tra le parti Nelle prossime ore Tra l'altro ragazzi È stata presentata La nuova maglia Della Juve Oggi Che adesso Ve la vado a far vedere E dicono Che sotto Al post Di presentazione Della maglia Ci sia anche Il like Di Di Maria Si si È confermato C'era anche Il like Di Di Maria Della maglia 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 Grazie a tutti.